veramente complimenti wow complimenti l'unica cosa che sono ancora capace a fare camminare ah vorrei arrivare io eh complimenti complimenti no io sono sempre io anche adesso sto voglio tornare a quella spontanezza di Rom si parte da giù sotto e non si fa un giro su diretti dritto massimo appendevole il rifugio c'è un rifugio per la zona? si c'è il peruca vuoi dire?